ok sono le 6 e 59 e già fa un caldo becco lui io vado a divertirmi, vado in mezzo al fuoco le fiamme lui va a fatturare, va a fatturare perché qua c'è bisogno di fatture perché sennò non si pagano le tasse e con le tue tasse pagano anche la mia cassa integrazione, pago pretendo e pago la e quindi io pedalo grazie a lui ospite grandioso e ci si rivede alla prossima stato contento, almeno ci siamo visti salutiamo ciao ciao buonanotte buongiorno spettacolo sta bici politana in riva al mare proprio scorrevolissima a quest'ora del mattino poi con nessuno è davvero fida e ragazzi lo so che sto facendo poche riprese ma tutta la zona ricciosa con i primi e giù di lì la costa è pressoché tutta identica e invece nel pezzo adesso prima di Bellaria e Gemmarina c'erano un sacco di lavori lungo la via marina e quindi ho ripreso poco e sto pedalando un po' quindi accontentatevi dai vi prego e anche a Cesenatico ci sono arrivato ho già fatto un'ottantina di chilometri me ne mancheranno circa 35 arrivare a Ravenna che è dove vorrei fermarmi forse sarò ospite dei Baldex un grande pilota FPV uno dei piloti migliori in Italia e niente adesso vado a cercarmi un posto dove mangiare una macedonia o qualcosa di fresco e poi riparto con calma adesso una pausina ci sta tranquillamente a dopo ragazzi guardate che bella questa ciclabile nella pineta di Cervia in direzione Ravenna pedalabilissima sentite anche le ciccale come ci calano ragazzi indovinate un po' dove sono sono nel posto dei Babaciu sono a Mirabilandia quella è la ruota le giostre e mi ha chiamato il Baldex e sta venendo in questa zona qua mancheranno 10 chilometri a casa sua ma mi ha detto che mi viene a recuperare qui zona Mirabilandia quasi quasi vado dentro vado in una di quelle giostre con l'acqua e mi butto dentro cosa ne dite? forse mi buttano fuori se faccio una roba del genere così salutiamo il Baldex che è arrivato complimenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti